Allora a me piacciono molto le cose vecchie tranne le donne, comunque tra le cose vecchie a volte ti capita della roba in ferro arrugginita messa un po male se volete ridargli un po di vigore o comunque volete farlo risaltare adesso vi faccio vedere il metodo che tra i tanti che ho provato secondo me è più efficace dunque innanzitutto iniziamo con il pulire il pezzo che vogliamo sistemare quindi gli diamo una spazzolata con una spazzola d'acciaio e lo puliamo al meglio che possiamo nelle parti un po più ostiche da ripulire possiamo anche darci con il flessibile e poi già che ci sono mi faccio anche un po di pedicure questo qui è il prodotto che vi consiglio di utilizzare per trattare il vostro ferro è un olio antiruggine che ha però essenzialmente due difetti il primo è che non ci si può condire l'insalata il secondo è che ha dei tempi di asciugatura veramente molto elevati se non lo esponete al sole ci può volere anche una settimana io ho optato per l'esposizione solare sopra una vecchia carriola una volta che l'olio si asciuga questo è grosso modo l'effetto ora in video sembra molto più lucido di quanto non sia però vi assicuro che il risultato è gradevole e niente ciao